L'applauso a voi, la donna più bella di Dara. L'applauso alle ragazze, soprattutto alla grande benedità di un personaggio di Dara. Com'è stato? Vado un applauso a Benet, vado a voi. Ma va bene, si vede la prima qua. L'applauso arriva spontaneo, si? E da noi in Napoli, a mio tre, deve scaglionare e inflamare il palaparteno per per me, ok? Ma tu, tanti napolesani tu li conosci meglio. Abbastanza. Vieni, no? Vieni, a mio tre. Uno, due, quattro. Grazie a te, grazie a te che sei venuta stasera. Grazie a te perché io so che tu, a mezzo d'altro sono decisioni ovviamente amministrati che non fai queste cose. Nel senso che non vai ospite dappertutto, c'è? No, assolutamente no. Sceglievo le cose che mi piacciono. Mi gira, mi gira.